gente di femministe fuori controllo ne abbiamo viste parecchie da quando ho aperto il canale molti di voi pensavano che avessimo toccato il fondo con pagine nello stile di frida ma quella che vedremo oggi vi assicuro che ha raggiunto tutto un altro livello qualche settimana fa avevo postato uno dei suoi post deliranti nelle storie di instagram e pensavo che fosse finita lì non mi andava e non pensavo che fosse necessario farci un video ma dopo quel post ne hanno pubblicati altri molto peggio e ho deciso che non potevo tirarmi indietro l'unica cosa che dirò prima di analizzare le sue teorie è che non mostrerò il nome della pagina perché non vorrei che subisse una shitstorm e anche se qualcuno di voi sapesse il nome per favore non andate a lasciare insulti facendolo passerete automaticamente dalla parte del torto lo scopo di questo video è commentare ciò che dicono senza attaccare le persone tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione e mi auguro che continuino a farlo anche loro così da aver sempre qualcosa da guardare per farmi due risate se gli uomini restassero incinti l'avorto sarebbe sempre stato legale e disponibile non esisterebbero obiettori ci sarebbe un congedo parentale lunghissimo riceverebbero una promozione a ogni figlio e molte altre frasi senza senso se volete leggerle mettete in pausa il video forse starete pensando che stiano scherzando facendo una parodia delle pagine femministe estremiste ma no sono assolutamente seri a questo punto potremmo dire che far restare incinti gli uomini sarebbe la soluzione a tutti i mali del mondo non ci sarebbero né guerre né fame queste persone sono davvero convinte che tutto ciò che le succede sia perché sono donne a colazione si mangiano pane e vittimismo non so cosa gli sia passato per la testa per arrivare a sputare delle robe così sconclusionate ma sono felice che l'abbiano fatto involontariamente fanno più ridere delle pagine di meme la gente giustamente nei commenti l'ha chiesto sì ok ma queste tue affermazioni hanno delle fonti delle basi su cui hai tratto queste conclusioni e la sua risposta no è solo uno scenario ipotetico non esistono fonti io gradirei morire comunque visto che lei ha anche scritto che le malattie che riguardano esclusivamente le donne se invece riguardassero gli uomini avrebbero una cura per renderci conto di quanto siano false queste affermazioni e frutto di una mente un po' confusa statisticamente una donna su otto svilupperà un cancro al seno nel corso della sua vita contro un uomo su sei che svilupperà un cancro alla prostata eppure per le ricerche per il cancro al seno i fondi ricevuti sono più del doppio di quelli per la prostata e di anche ogni altra tipologia torniamo un po indietro nel tempo più precisamente all 1 maggio la festa dei lavoratori e la nostra femminista preferita ci delizia con questa bellissima immagine con una dose di fake news come di consueto buon primo maggio alle lavoratrici che guadagnano in media il 17 per cento in meno dei colleghi uomini a parità di titolo e mansione tutto davvero triste se non fosse che secondo l'eurostat cioè l'ufficio statistico dell'unione europea in italia il gender pay gap sarebbe del 4,7 per cento e ovviamente pagare una donna meno di un uomo per lo stesso lavoro ed ora è illegale e i contratti collettivi non fanno alcuna distinzione di sesso le statistiche che portano a risultati assurdi di differenze di salario tra uomini e donne guardano soltanto lo stipendio medio degli uomini e lo stipendio medio delle donne senza prendere in considerazione tutte le altre variabili che entrano in gioco che poi la gente che davvero sostiene che si possa farla franca pagando una donna per lo stesso identico lavoro fino al 30 per cento in meno rispetto ad un uomo per quale motivo secondo loro le aziende non dovrebbero assumere solo donne invece degli uomini sapete quanti soldi risparmierebbero per salari stipendi avendo la possibilità di investirli in ricerca e sviluppo o nell'apertura di nuove sedi cose che porterebbero ad entrate enormi il prossimo post riguarda la ragazza che purtroppo ha perso la vita dopo il vaccino e ovviamente come poteva una pagina del genere non strumentalizzare la cosa dicendo che è successo perché è stato testato solo sugli uomini e dopo essere stata bellamente smentita ha aggiunto la scritta attenzione post pubblicato prima che si sapessero le cause il tema del post non è questo caso specifico ma la medicina di genere sì infatti se ti riferisce la medicina di genere metti in foto la ragazza e un titolo che riporta una notizia falsa giusto ma la cosa più divertente di questo post che ha fatto 1300 commenti quasi totalmente negativi è che alcuni hanno risposto con offese di insulti e lì ha fatto assolutamente bene a non rispondere ma altri hanno cercato di argomentare provando a spiegarle che non stanno così le cose ma che in realtà si cerca di fare dei gruppi più eterogenei possibili in modo da capire al meglio le diverse reazioni ma ad ogni singolo commento la sua risposta è stata si è fatto un summit europeo su questo ma voi pensate che non sia un problema chi siete voi e questa frase raga deve diventare il tormentone di questo canale scordiamoci i capelli blu o l'83 per cento il futuro e il fottuto summit europeo l'admin della pagina che ha risposto ai commenti me la immagino tipo così ehi guarda qui ci sono dei dati che dimostrano che ti sei sbagliata c'è stato un summit europeo su questo chi siete voi il prossimo post è intitolato un problema degli uomini con tanto di foto di un signore che regge un cartello la violenza sulle donne è un problema degli uomini ogni volta che leggo robe di questo genere tipo all men capisco che la persona che ho davanti non sta davvero lottando contro la violenza sulle donne ma sta semplicemente cercando un colpevole da far sentire in colpa la violenza è un problema delle persone violente punto forse queste persone non hanno capito che gli uomini non sono un movimento ideologico con gli stessi pensieri e le stesse intenzioni a differenza delle femministe l'unica cosa che ho comune a me e gli altri 3 miliardi e mezzo di uomini e che abbiamo tutti delle palle anche se grazie alle attiviste ho imparato che basta identificarsi come uomo per esserlo dunque con alcuni di loro non mi resta nemmeno quello in comune quindi come può un'azione di un altro uomo rappresentare me o ancora peggio farmi sentire in colpa non può semplice la violenza è un problema di chi la perpetra maschio o femmina che sia altro post e ovviamente serve che ve lo dica altra fake news tre cani elimina la parola con la c cioè il femminile di cane per capirci e la parola con la p come sinonimi di donna lo sapevate che il dizionario online della tre cani indicava come sinonimi di donna tutte quelle parole che abbiamo visto ripeto sinonimi ossia parole che hanno lo stesso significato e in effetti no non lo sapevo anche perché non è vero anche questa notizia era stata smentita quelle parole non erano inserite come sinonimi di donna erano semplicemente inserite come spiegazione di alcuni termini che si formano con la parola donna come donna dai facili costumi proprio come per la parola uomo si possono trovare parole negative come rozzo barbaro e altre anche peggiori si tratta di espressioni correlate non sinonimi ma la cosa che mi ha lasciato senza parole è che hanno letteralmente messo uno screen della definizione della parola donna ma non si sono nemmeno degnate di leggerla l'ultimo post a cui daremo un'occhiata riguarda la differenza salariale tra i giocatori della nba e della wmba con un post in cui vengono messa a confronto le statistiche di lebron james e quelle di una giocatrice femminile e provate a indovinare secondo questa pagina per quale motivo sono pagate di meno le donne potrebbe essere perché meno gente interessata a quella categoria oppure che ci sono meno spettatori gli sponsor non hanno motivo di investire perché non guadagnerebbero nulla ma no no sicuramente è colpa della cultura maschilista e del patriarcato la wmba è patetica chiunque in america la considera una barzelletta il divario tra loro e lmba è talmente grande che fa sembrare quello tra il calcio femminile e quello maschile insignificante se non ci credete vi linkerò in descrizione le 10 migliori giocate della wmba e valutate voi stessi quando avevo 10 anni giocavo al parchetto con i miei amici facevamo delle giocate migliori di quelle ma in ogni caso lo stipendio dipende da quanta gente segue quel campionato compre biglietti le maglie eccetera se domani si scambiassero il numero di spettatori i loro stipendi farebbero lo stesso non si tratta di maschilismo si tratta di capire come funziona la realtà queste persone oltre a fare un danno all'umanità diffondendo fake news fanno un danno al femminismo stesso se oggi le persone non prendono sul serio le lotte per la parità è colpa delle persone che nascondensi dietro lo scudo del femminismo non fanno altro che sfogare le loro frustrazioni contro il genere maschile potrei andare avanti altre due ore a commentare i loro post senza senso ma credo che possa bastare troppo internet anche per oggi quindi passate una bella giornata e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video ciao ciao